Note fuori udienza il concerto di beneficenza promosso da un gruppo di avvocati di Crotone che hanno devoluto oltre 10.000 euro all'ospedale della cittadina pitagorica, servizio di Luigi Quintieri. Con oltre 10.000 euro di ricavato si è conclusa la seconda edizione del concerto di beneficenza tenuto presso il Teatro Apollo di Crotone e promosso da un gruppo di avvocati del Foro Pitagorico unitamente all'orchestra del liceo musicale Gravina. Siamo con Roberto Stricagnoli, presidente del comitato Note fuori udienza. Ci parli di questa iniziativa giunta oggi alla seconda edizione. Dopo il successo dello scorso anno, ecco la seconda edizione di questo concerto di beneficenza. Quest'anno si è deciso di devolvere il ricavato ai reparti di pediatria, neopsichiatria infantile e di neonatologia dell'ospedale di Crotone. Il tema quest'anno sono i bambini, i bambini che rappresentano per noi, sono il nostro futuro, ma che sicuramente hanno il diritto di vivere e di divertirsi, ma anche hanno il diritto alla migliore salute. L'ordine degli avvocati di Crotone è protagonista ancora per questa seconda annualità di questa iniziativa importante. Siamo con il consigliere Caterina Marano che ci illustrerà il programma e gli intenti di questa serata. Sono degli avvocati ad essere al centro perché l'iniziativa è nata da un comitato che è note fuori udienza. L'iniziativa è stata patrocinata sia moralmente che economicamente dall'ordine degli avvocati di Crotone che è sempre sensibile a queste tematiche. Quest'anno abbiamo deciso di dedicare il ricavato al reparto di neonatologia, pediatria, neuropsichiatria infantile e adolescenziale interpretando quella che è una funzione sociale dell'avvocatura, forse la più nobile. L'iniziativa è nata l'anno scorso e l'iniziativa è merito del collega Roberto Stecagnoli che poi è stata abbracciata da noi che siamo fortunati e onorati di essere sui amici e l'abbiamo estesa a tutto il mondo dell'avvocatura che ha risposto positivamente ma non tanto l'avvocatura quanto la società civile. Avvocato Pietro Durante questa sera nelle vesti di cantante. È un'esperienza bellissima dopo quella che si è avuta già l'anno scorso per un'iniziativa benefica e siamo onorati di alietare tutti coloro che vogliono partecipare a questa causa giusta perché il ricavato come è stato più volte detto e come si dirà andrà in beneficenza aiuteremo i bambini quindi all'ospedale civile di Crotone reparto di pediatria. Io sono onorato di fare parte della schiera dei cantanti quindi svestiamo la toga per prendere il microfono e cantare. Si è tenuta a Paola nella suggestiva atmosfera della sanità.